Cesare Zavattini è figura tra le più complesse e sfaccettate della cultura del XX secolo. Scrittore, sceneggiatore, che ha lavorato con i più grandi registi del suo tempo, pittore, fotografo, ma anche autore di teatro, regista, attore. Sempre profondamente e umanamente calato nel proprio tempo e contemporaneamente teso a trascendere epoche e generazioni con le sue continue anticipazioni e la sua straordinaria visionarietà. Questa mostra rivela per la prima volta oltre 200 stupefacenti opere pittoriche dei primi anni 40. Un tesoro visivo ritrovato che risale al momento più intensamente originante dell'intera attività artistica di Cesare Zavattini. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS